almeno quella almeno quella marlo allora ah voglio ben vedere 350 km modena riavenna rimini e ho posteggiato la mia spider viola in seconda fila oh voglio vederti te poi c'ho anche degli impegni ma sai quanto spese? ma che impegni te? non fai un patacca e non fa niente tutto il giorno dai comunque qua è tutto a posto ma 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 meno male perché comunque voglio dire poi le figurezze cioè voglio dire nell'88 89 un senso adesso che magari c'è gente che mi guarda e vede anche il fisico e vede comunque i miei 50 debuti in certo modo vede che sono di un certo livello ascoltavo gli anni 90 ta 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 me ne facevo dire nei svedesi voglio dire la gente ci crede a queste cose che gli dico perché questa bocca qua deve parlare di sessualità in maniera che li fatti mi cosano e quindi e quindi voglio parlare di quelle robe lì quelle cose che tu marlo non fai più è quel problema è quel problema